Il pessimo risultato ma non solo, lo 0-4 rimediato contro il Catanzaro ha lasciato in eredità l'idea di una Fidelisandria peggiorata anche da un punto di vista della prestazione. Dopo la rete del provvisorio 0-1 dei calabresi di fatto non c'è stata più partita con i ragazzi di Cudini, che pure avevano approcciato bene alla partita, surclassati dall'avversario più quotato sul piano dell'atteggiamento e su quello tattico. Certamente il cliente era di quelli scomodissimi e i punti per la salvezza non dovevano arrivare sabato, ma è anche vero che esistono modi e modi di perdere il modo in cui è maturato il KO qualche giorno fa. Non è piaciuto a nessuno, a non essere premiato in particolar modo è stata la scelta del tecnico ex Campobasso di confermare il 3-5-2, abito indossato tutto sommato discretamente nella trasferta di Francavilla-Fontana di una settimana prima, un modulo di gioco questo che è sembrato aver tolto certezze alla squadra costruita nel corso dell'estate per giocare con il 4-3-3 sistema di gioco, che nelle primissime battute stagionali non aveva prodotto vittorie, ma aveva senza dubbio dato una chiara identità alla formazione bianca-azzurra. Cudini, nell'immediato post-gara, ha preferito non soffermarsi sull'argomento concentrandosi maggiormente sulla fluidità della manovra, ma ha la sensazione che a Pescara possa propendere per tornare al passato, magari rigettandone la mischia dal primo minuto quel Schipos che, al netto dei limiti fin cui per esatti in fase realizzativa, resta l'unico centravalte di peso attualmente a disposizione.